Iva Zanicchi Iva Zanicchi, la cover di Playboy? Non la rifarei Iva Zanicchi Signora Zanicchi circa 48 anni fa si mostrò sulla copertina di Playboy. Ho commesso tanti errori nella mia vita, artistici e umani, ma rifarei tutto. Tranne la copertina di Playboy. Davvero? Pensare che cacchi pagherebbe per finirci. Guardi io sono sempre stata una timida, riservata. Il direttore dell'edizione italiana era Paolo Mosca, quando mi ha proposto il servizio ero un po' scettica ma mi fidavo e quindi ho accettato. Cosa la ha convinta?. Avevo 40 anni e sentivo la vocina di mamma natura che mi diceva di riflettere. Ma notavo il fisico che iniziava a mutare. La angosciava quella sensazione?. Non era mica come oggi che ci sono un mucchio di trucchi per restare giovani grazie anche ai miracoli di Photoshop. Grazie a tutti.